Come versare un assegno al Bancomat Per prima cosa inseriamo la carta ovviamente per il verso giusto poi seguiamo le indicazioni clicchiamo menu versamento, clicchiamo versamento digitiamo il PIN clicchiamo assegni ricordate l'importo esatto del vostro assegno in questo caso 8,92 clicchiamo prosegui inseriamo l'assegno qua sotto per il verso giusto prosegui scriviamo quella data che è indicata sull'assegno 20 04 23 23 cancella 23 ok 8 92 8,92 ok ok concludi e versa è una procedura che non faccio spesso neanche io adesso possiamo andare a vedere sull'applicazione ricordatevi ovviamente di prendere lo scontrino è di ritirare la carta cliccando esci e andiamo anche la carta direi che la procedura era molto semplice un saluto a tutti da Edward Simoni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti